Gentili amici di Venezia Laguna Nostra, ci siamo spostati da una parte all'altra di questo canale, esattamente dall'area Trevisan dove abbiamo potuto filmare il suo parco, a questa primaria di Saccafisola ed esattamente nel parco Fregnan. Un parco, amici, che è stato valorizzato dalla costruzione di queste abitazioni comunali avvenute 24 anni fa. Un parco davvero incredibile con questa visuale su San Clemente, su San Servolo e all'orizzonte sul Lido di Venezia, ma amici, anche qui purtroppo, come abbiamo potuto osservare per il parco Trevisan, il livello di degrado è anche qui abbastanza notevole. Notiamo ad esempio l'area verde che dovrebbe essere un po' meglio curata, le bottigliette che possiamo incontrare, ma soprattutto, amici, su questa visuale che abbiamo potuto osservare nella nostra meravigliosa laguna, guardate, un bel deposito visivo che io sinceramente ricordo essere qui da circa un anno e mezzo, di materiale vario, che tocca il ferro, che tocca davvero foglie, piume, reti di pescatori, vasi di piante, addirittura un pezzettino di barca qui abbandonata e fatta ormai a deposito. E questo, amici, è il deposito di materiale vario che possiamo incontrare in questo parco, con questa visuale incredibile sulle varie isole della nostra città, incredibilmente di fronte ai nostri occhi, così abbandonato. Amici, qui siamo adesso nel parco Fregnan, ci spostiamo in area Chimisso per notare un'altra situazione analoga, tra poco.